Mr. Corrent, prima amichevole qui dal ritiro di Valle del Chiesa contro l'Ingolstadt, una bella vittoria tra due, un amichevole fino a un certo punto, che spirito che c'era in campo. Diciamo che è stata una partita tosta, lo sapevamo, ne avevamo già incontrati l'anno scorso, mi hanno detto i ragazzi che sapevano della difficoltà della partita, però sono molto contento con degli errori, chiaramente perché siamo all'inizio, però lo spirito è quello giusto, ci sarà da battagliare, ci sarà da migliorare chiaramente, però ho visto una squadra con qualità e col sangue nelle vene, quindi quella è una cosa che mi fa piacere. Sentiamo già il grado della voce leggermente appassato, sarà una stagione con domenica e lunedì sempre a voce zero. Purtroppo fa parte, quindi adesso ricarichiamo le piglie perché domani mattina bisogna rigridare, quindi è normale, no, a parte gli scherzi sono soddisfatto dell'atteggiamento della squadra, di anche la qualità perché abbiamo fatto anche delle buone cose, quindi la strada è giusta, è lunga, sono contento, proseguiamo nel lavoro. Ecco, al di là del fatto che sia veramente troppo presto, cosa ti è piaciuto della squadra, se è già stato messo in atto qualcosa che si è spiegato in questi primi allenamenti? Beh, io credo che bisogna giocare, cercare di proporre gioco in base alle qualità dei giocatori, avendo delle idee e cercando di far gol e di vincere le partite, sapendo che prima di non vincerle bisogna vendere cara alla pelle sempre, anche negli amichevoli. Questa è stata una dimostrazione contro una squadra che giocherà sicuramente a breve, quindi più pronta, però noi oggi siamo stati tosti e questo mi fa molto piacere.